Se volete acquistare i crediti FIFA a basso prezzo andate su fifacoin.com e avete il 5% di sconto con il codice Granos Cioè, figa! Bene vecchi di tre, buoni simili Granos e siamo tornati con un nuovo video qui del Rotation One Allora, la situazione è questa, unico acquisto, no, abbiamo fatto due acquisti Abbiamo comprato Kony, rispetto all'ultimo episodio e come ci avete consigliato, già l'hanno comprato Abbiamo comprato Rudiger, quello sicuro, abbiamo appena comprato E Rudiger che abbiamo pagato la bellezza di 2006, quindi speriamo che sia buono Se no, è molto di voi che mi l'hanno consigliato, quindi vi ho dato retta e ho preso Rudiger Adesso siamo arrivati con pochissimi soldi e quindi dobbiamo soltanto giocare e cercare di vincere qualche partita Soprattutto, la situazione della classifica è questa Ci mancano 4 partite e andate a vincere 2 Esatto, facciamo 6 punti e ci mancano 4 partite Quindi se ne vinciamo una, saliamo e comunque prendiamo dei soldi Non so quanti, va bene? Ok, prendiamo 1.600 Mentre se vinciamo il titolo ne prendiamo 2.000 Perciò dobbiamo cercare di impegnarci a vincere il titolo La squadra è questa Deguidurbe, Gervigno, Giannainggolan, no, Bainker, Digne, Cesni C'è tutta la Roma praticamente Poi, vabbè, non so perché c'è quello del CSKA, lì, Sperzo Poi per gli Aitch, attenzione, gli Aitch Prova ad andarsene Eeeh, fallo Qua ci si tira perché No, 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 dai No, ma te Segni, su, dai Vabbè, allora Passa Sì, D'Ambrosio 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 C'è il carnezis Ma il carnezis Non so se ti ricordi le parate che c'ha fatto Mandami Sì, Hedin 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 Ti ti pò tirata da là Più o meno Hedin Oh, forse no Rientra a tiro Ancora Diego Ho visto gli Aitch Aitch, Aitch È tagliato bene E, eh, fallo Aitch No, no, non ho il tiro di merda Mamma mia Anche se non te la che è Diego Se ne va, Diego, se ne va Ancora, Diego Diego, rientra C'è quel lento Un culo E, tiro No, non ce posso credere No No, no, rega No Vai, vai Provolo L'hai visto, Diego Diego Fatemi Fatemi che c'è il fisico Tiro Sì 1 a 0 per loro Hedin Non è lui Beh 2 a 0 Ma che cosa gli è presa L'acci tua Ma hai visto Rudiger Oddio Oddio Che cazzo Oddio Cazzo Attenzione Dzeko 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 Cazzo fa Mamma mia Grandissimo Grandissimo Dai, dai, vai Dzeko 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 Tutta la Roma Cazzo Dzeko 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 Entra da solo Romulo Rigore Oh Dai Non l'ha dato Dai Vabbè Oh, Canegis Oddio Canegis Canegis Mamma mia Si improvvisa portiere Per un momento Si improvvisa portiere Ecco Vabbè Dai, ma non è possibile Gli angoli Sono troppo Buggati Rega Cioè Non è possibile Che ogni angolo È gol Cioè Ma che cazzo è Tira Conè Ci vede come un'entrata Qua parla di Dzeko Non lo so Paragiotis Conè Mamma mia Prima partita Primo gol Adesso Angolo per lui E 4 a 3 Paletta 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 Vabbè Muo Ho pure passato Paletta Si, ma è paletta Se ci fanno un contropiede Stanno unculare Oh Fuori, fuori, fuori Oh Cross in mezzo Pallo E c'è 5 a 2 Con le doppietta Mamma mia Mamma mia Che panaggio di Stai Che accitua Va bene Onda 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 Energetica Lo tè Stai giocando Ma perché hai fatto Stai Perché era finita La partita C'è una cosa Bruttissima Vabbè Prima partita Andata bene 5 a 2 Cazzo L'abbiamo fatto nero Dai subito Che la prossima Veloce Dopo veloco Sce Allora Vediamo un attimo Questa squadra Ok Una squadra normale Possiamo batterla C'è una premier Tipo serie Vai Voglio carichi Porco 2 Voglio vincere Il cazzo Di titolo Vai Se vinciamo questa E' vinta Siamo passati In seconda In nona Ti plevi? No Voglio ballare io Oh Andata dietro Dai Crossala Oh Orpocane Ci hai messo troppo A crossarla Comunque Eh perché Stata un fuorigioco Eeeh Toto Oh Totò Oh Totò Totò Non è possibile Perché Perché Fai tutto bene Fai l'azione del Cristo E poi Mannaggia Che è Perché Gli hai dei falli A caso Ma questo FIFA veramente I falli Non ci capisce Proprio il cazzo Vai Vai Passala Andee Dai Dai Ma pure questa Ne andavo Che cazzo davvero Eh Comunque rica Stama gioca bene Cioè Comunque Quella parata là E' incredibile Sì Vabbè Sì Vabbè Tutò 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 C'è il gol A zero Subito Ragazzi Il titolo E' sempre più vicino I duemila crediti anche Andiamo a prenderci Gabbiadini Abbiamo appena spesi I duemila e sei Sì Vabbè Siamo presi Lutiger Viva Che cazzo sta A gabbiadini Il tiro Ma porco Che cazzo Prende Come cazzo fa Pio A paraffa Oddio Non lo sa Manco lui Che cazzo Ha fatto Regà Tira The Goodsman Cioè Qua la Veronica Popo Romulo No 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 Vabbè Di Natale Vabbè È buona Tira È sbagliato No Perché Sti cazzo Dei pallonetti Ti tirano dalla testa Non hai capito Ho sbagliato Proprio a prendere il tasto Non volevo tirare il pallonetto Volevo fermarmi Bene Giusto Oh E basta Con sta stampante No Vabbè Incredibile Dai È incredibile È incredibile Non ci posso credere Abbiamo preso I peggio palli Le peggio traversi Questo Tu tiri Tu gol Vai No Perché Perché No No Vabbè No Guarda Come stiamo a pareggiare Sto partita Cioè Non ci voglio credere De Guzman De Guzman De Guzman De Guzman Dio Dio Che ha fatto No Non entra più Non vuole entrare Ho fatto una finta Che volevo fare Però è stata una finta Geniale Oddio Tutto perché Che cazzo Che cazzo Che cazzo Che cazzo Che cazzo È passato È passato Saphir E vabbè Un altro palo Dai Dai Un altro palo Dai A posto Hanno finito Hanno vinto È finita Finisce qui Campioni Sì Sì È durata più del dovuto Sta decima divisione Mamma mia Guarda che riparate Che ha fatto Campioni di divisione 2004 Dai Dindini per noi Il mano Allora Il primo episodio Guarda Abbiamo fatto 21 tiri De cui 11 in porta Cioè Non so se hai visto No Non ci ho fatto Allora Il primo episodio In cui vinciamo tutte e due le partite È bello Siamo passati in nona Nel prossimo episodio Cominciamo subito La nuova stagione E la nuova divisione Nuova divisione E niente Lasciatevi i like Se vi è piaciuto questo video Vi vediamo al prossimo E consigliateci Che comprare Perché adesso abbiamo tipo 3000 Da spendere Quindi consigliateci Che dobbiamo comprare Se dobbiamo mettere Soldi da parte Per salà O prendiamo gabbia Di nicioci Dai Bella